A riguardo a Figliuolo, credi che stia sottovalutando la questione degli approvvigionamenti, ossia promettere sempre queste 500.000 dosi giornaliere che ormai sono diventate una chimera, credi che stia percorrendo una strada sbagliata andare avanti a proclamare questo numero? Io davanti a Figliuolo ho questo moto di costante incredulità, ma lo dico con garbo, ne ho profondo rispetto, credo che sia una brava persona, ma l'incredulità è legata al fatto che non riesco a capire su quali basi e su quali meriti e per quali strani arcani sia stato messo lì. Detta in estrema sintesi, io credo che lui non sia all'altezza del ruolo che gli hanno dato e quindi purtroppo sta navigando a vista. Le sta sparando un po' a caso, un giorno c'ha il moto ottimistico, ne avremo 500.000, il giorno dopo dice vacciniamo tutti quelli che ci sono, il giorno dopo dice non facciamo più così, adesso dice vacciniamo alla carte, come hanno fatto in Basilicata, ma in Basilicata è stato un disastro, questa sensazione che stia un po' andando alla cieca non mi mette esattamente di buon umore e dubito che induca all'ottimismo i tanti che hanno molta speranza nei confronti di Figliuolo e nei confronti di Deraki.